La vittoria La vittoria sia di buono spiccio per Milano? Beh sì, però dobbiamo migliorare in tante cose perché è già la seconda volta che passiamo in svantaggio e finiamo il primo tempo sotto di un gol e non va bene così perché non sempre si possono recuperare due gol, quindi dobbiamo migliorare soprattutto su quello. Quanto aiuta a vincere due vittorie consecutive? Può cambiare un po' la stagione adesso? Beh, aiuta tanto perché comunque ti dà morale, ci sono i risultati e tutto più facile, però sappiamo che dobbiamo lavorare tanto e dobbiamo migliorare su tante cose.